Incendi boschivi, terremoti e alluvioni sono le principali cause di emergenza in Abruzzo. Ma come si comporta la protezione civile per fronteggiare un disastro ambientale? Tre giorni dedicati alle esercitazioni in situazioni di emergenza, organizzati dal nono reggimento alpini dell'Aquila, in sinergia con il Dipartimento di Protezione Civile regionale. Noi innanzitutto siamo alpini, perciò abbiamo una spiccata, come si dice, verticalità. Perciò tutto l'esercito interviene nell'emergenza. Gli alpini hanno la capacità di intervenire laddove l'ergenza ha questa caratteristica di verticalità. Cosa si aspetta per il periodo estivo adesso? Siete pronti a fronteggiare quali emergenze? L'emergenza in quanto tale è un'emergenza, perciò la sua imprevedibilità è la sua matrice principale, purtroppo. Però cosa possiamo fare? Noi ci addestriamo. Ci addestriamo in questo momento, per esempio qui oggi, all'antincendio, perciò è la campagna di incendi boschivi, si sviluppa appunto nel periodo estivo. Noi siamo una componente della protezione civile pronti a intervenire, la loro richiesta, perciò in questi giorni noi ci addestriamo proprio a questo. In un anno abbiamo avuto il terremoto del 24 di agosto, il terremoto del 30 di ottobre, il terremoto del 18 di gennaio, la slavina del 18 di gennaio, la tempesta perfetta sempre del mese di gennaio, poi abbiamo avuto un elicottero che andrà a sbattere contro una montagna a Campo Felice, quindi praticamente dagli incendi alle alluvioni, alle nevicate, ai terremoti, in Abruzzo purtroppo non manca nulla. Simulazioni sul campo, presso il Monte Morrone, nelle zone rigadenti, nei comuni di Prato-La Peligna, Rocca Casale e Pacentro, un'esposizione di attività dimostrative che l'esercito svolge durante le emergenze, un convegno sulla gestione della comunicazione in caso di calamità ambientali e un'esposizione didattica a cura degli studenti del polo scientifico ricofermi. Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, l'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara e diversi esperti come il ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Noi forniamo con queste banche dati, per esempio quella della mappa di pericolosità, forniamo livelli di accelerazioni e quindi in base a questo sono state scritte e aggiornate le norme tecniche di costruzione che contengono i vincoli ingegneristici per le nuove edificazioni che vanno quindi naturalmente rispettate. Elliot De Drago nel nome dell'operazione che si è svolta nel comune di Sulmona che ha patrocinato l'iniziativa. Contiamo da questo momento in poi di sviluppare un progetto serio, duraturo, con Sulmona al centro di tutto il territorio, per mettere su un sistema coordinato di protezione civile sui vari temi d'emergenza che il nostro territorio potrebbe dover affrontare.